Senti è quello che si chiama Bad e potrebbe arrivare al terzo il nuovo che si chiama Dangerous sempre da trailer vediamo un'altra canzone e ascoltiamo un altro pezzo con relativa spettacolare esecuzione questo si chiama Billie Jean, Michael Jackson Senti è quello che si chiama 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 Senti è quello che si chiama